Buonasera a tutti e ben ritrovati ad Angoli, questa sera sono in studio, oggi ero vagato ieri sera, come sapete abbiamo inaugurato la stagione nuova della trasmissione insieme a Dario Campione, volevo rassicurarvi la sua pasta alla norma per chi ha seguito la prima puntata è venuta buonissima, dopo tutto vi ho dato ottimi consigli di cucina, sono lieta di ritrovarvi e dunque come avevo detto ieri sera a Dario e a tutti voi si ritorna anche nel nostro studio dove nel corso delle serate dal lunedì al venerdì per tutte le settimane a venire incontreremo come sempre tantissime persone, esordio assoluto che abbiamo affidato, beh insomma questa sera a due volti che amerete molto, anzi che ritroviamo nel nostro studio, devo ricordarvi questo che non l'ho fatto ancora, non l'ho fatto ieri sera, quindi lo faccio oggi, potrete per tutta la nostra stagione comunque intervenire nella trasmissione perché come da buone tradizioni vogliamo sentire la vostra voce, ricordatevi che l'indirizzo email al quale scriverci è sempre lo stesso, dunque noi l'abbiamo mantenuto, angoli-espansionetv.it, ve lo dico stasera ve lo ricorderò nel corso delle serate ma sapete che non sempre sarò in studio, quindi prendetene note e ditelo a tutti. Dicevo, siamo pronti per partire, esordio assoluto nello studio, quindi prima puntata abbiamo detto iniziamo all'insegna della bellezza, della bellezza, sì, noi volevamo fare così, allora abbiamo invitato un ospite meraviglioso al quale do subito il benvenuto, buonasera Lorena Tosi. Buonasera Roby. Ah, sono contenta di trovarti, praticamente a te è il compito di rompere il ghiaccio dello studio e della nuova stagione, sei contenta? Un grandissimo onore, sicuramente. Allora, Lorena Tosi, direte a casa, io l'ho già vista, l'ho già vista, e beh, insomma è una scrittrice, è l'autrice del libro che io in questo momento stringo fra le mie mani, le donne possono volare. E allora, noi abbiamo sempre un po' detto che questo salotto è dedicato alle signore, non solo, però questa sera iniziamo con galanteria dedicandoci un po' al mondo femminile, tu stessa hai dedicato proprio un libro al mondo della donna, è vero Lorena? Esatto, esatto, il titolo è emblematico, è una metafora appunto della capacità femminile di rinascere, di cui poi parleremo. Eh sì, sono temi veramente interessantissimi, noi poi dopo entreremo un po' nel vivo di quella che è la storia che Lorena ha scritto, ma partiamo anche proprio da un dato di attualità. Tu hai avuto un grande onore, quello di inaugurare un festival. Esatto, venerdì scorso ho inaugurato questo festival Frontiere Letterarie, è un festival che è giunto alla sesta edizione, coinvolge un po', si è allargato durante questi anni, e coinvolge Como, Varese e parecchi comuni, se non ero sono 13, di tutto diciamo l'arco di queste due grandi città. Di tutta questa zona, è vero, io ne cito un po', anzi no, citiamoli tutti che fa piacere, magari ci seguono anche da lì. Sono coinvolti Malnate, Binago, Casnate Convernate, Como, Varese, Castiglione Olona, Faloppio, Guanzate, Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Solbiate, Tradate, Ugiate Trevano. Esatto. Quindi 13 comuni del territorio insubrico che si sono riuniti e molti degli scrittori che parlano nelle serate organizzate arrivano proprio anche da questi territori. Arrivano proprio anche da questi luoghi. È un festival abbastanza importante, anzi importante. Io ho avuto l'onore di aprire la prima serata a Casnate Convernate, è stata una bellissima serata, si è creata una bella sinergia anche con i presenti, è stata un'esperienza molto bella, molto intensa. È un festival, come ti dicevo, che comunque è in collaborazione anche col premio letterario Piero Chiara, quindi è una cosa culturalmente dispensore. Molto, molto. E poi nella rassegna di questi libri che va avanti fino a metà novembre, infatti sei... Fino a 16. Esatto. Se i telespettatori vogliono comunque andare sul sito a vedere, ci sono tutte le date. Eh sì. Ci sono anche comunque scrittori importanti, anche ad esempio Giacomo Porretti, che è quello del trio Aldo Giovanni e Giacomo. Insomma è una cosa molto simpatica. Guarda, l'hai nominato dalla regia, sono perfetti. Li abbiamo lasciati perfetti a giugno, i colleghi li ritroviamo più che perfetti. A settembre e tra l'altro grazie a tutti per essere di nuovo insieme a me, www.frontiere-alto-letterarie.it. Esatto. Per ricapitolare durerà fino a 16 novembre e tu hai citato l'ospite d'onore, Giacomo Porretti, del trio Aldo Giovanni e Giacomo, che presenterà il suo libro, Alto come un vaso di gerani, il 17 ottobre. Esatto, perfetto, sei preparatissima. Sì, ma sai perché mi è rimasto in mente? Perché è il mio compleanno. Ah ecco, bene. Poco importa. Comunque la cosa importante in realtà è che l'apertura è stata affidata a te, con il tuo libro. Abbiamo visto un po' di fotografie anche della serata stessa. Quindi dicevi, hai presentato questo volume. Ho presentato questo volume, l'ho presentato con una mia carissima amica che è Adele Patrini, con cui ho fatto altre presentazioni, perché questo libro è in parte collegato anche alla sua associazione. Abbiamo fatto diverse cose assieme, un libro che parla di donne, della capacità di rinascita delle donne. Lei ha un'associazione che parla di donne operate al seno, quindi diciamo che il connubio è azzeccato. Molto, e siete riusciti a creare una bella sinergia con il pubblico. Una bella sinergia, poi le donne del pubblico hanno portato le loro esperienze. È stata veramente una bella serata. Beh, abbiamo fatto un'ottima presentazione un po' per contestualizzare, giustamente. Però adesso, le signore a casa, i signori, soprattutto, che magari vogliono capire un po' di più anche della forza delle donne, e del nostro universo, vabbè, diamo una giusta anticipazione di quello che potranno leggere qui dentro. Assolutamente. Tre storie, tre donne. Tre storie, tre donne, che sono le protagoniste, ma diciamo che la protagonista fondamentale è, come dicevamo prima, la rinascita. La rinascita che io, ovviamente, analizzo dal punto di vista femminile. Perché non me ne vogliano i signori maschi. Non penso. Io sono fermamente convinta che le donne abbiano una capacità di rinascita infinitamente superiore. Ma c'è un motivo, secondo me. E quale sarebbe? Secondo me è un po' insito nel nostro DNA. Nel senso, noi donne siamo molto meno brave degli uomini ad affrontare il dolore e ad allontanare il dolore, a rimuoverlo. Gli uomini, solitamente, non voglio banalizzare o generalizzare, assolutamente, però gli uomini quando si trovano di fronte a un dolore grosso, cosa fanno tendenzialmente? Non lo affrontano, o meglio, lo accantonano, si dedicano al lavoro, si dedicano a una nuova storia, a un nuovo interesse. Invece noi donne, forse perché siamo anche un po' autolesioniste, penso che sia un po' nel DNA nostro, lo affrontiamo il dolore, lo metabolizziamo, proprio ce ne facciamo, lo assorbiamo. E alla fine arriviamo a toccare il fondo, ma è proprio quando si tocca il fondo che si rinasce. Tu nel tuo libro hai voluto far affrontare alle tre protagoniste delle prove effettivamente dure. Esattamente, assolutamente sì, soprattutto la prima storia. Che parla di? La prima storia parla di violenza domestica, che purtroppo è un tema di estrema attualità, e quindi affronta il tema dell'amore, l'amore che secondo me non è degno di essere chiamato tale, l'amore è vissuto come un'ossessione, quando l'amore diventa ossessione. E io ho cercato di analizzare questo, dal punto di vista della donna, domandandomi come mai molte donne, molte purtroppo, subiscano queste storie, queste vessazioni, queste violenze che ricordiamo non sono solamente fisiche, ci sono anche quelle psicologiche che sono ancora peggio, e non sono cose che arrivano da un giorno all'altro, i segnali ci sono, storie che vanno avanti per anni. Purtroppo le leggiamo troppe volte. Le leggiamo e le sentiamo al telegiornale ogni giorno. E mi rifaccio un po' a quello che ho detto prima, no? Che noi donne comunque abbiamo un po' questo spirito di sacrificio, questo senso sbagliato e malato della croce rossina, io lo cambierò, assolutamente no. Cioè, noi donne dobbiamo imparare soprattutto prima ad amarci, a volerci bene, perché solo quando ci vogliamo bene siamo in grado di dare amore e soprattutto di riconoscere il vero amore. C'è anche un tema fondamentale che è quello dell'amicizia, è corretto? Sì, sì, l'amicizia è quello che salverà le tre protagoniste del libro. Le tre protagoniste sono tutte e tre donne che hanno sulle spalle un fardello piuttosto pesante, si ritrovano dopo tanti anni che non si vedevano e partono per un viaggio. Questo viaggio è proprio, anche il viaggio qua è una metafora, no? Il viaggio è il viaggio fisicamente, ma è il viaggio all'interno di se stesse. Ed è proprio attraverso la condivisione, attraverso finalmente riuscire a sfogarsi, a esprimere quello che hanno dentro, che riescono finalmente a liberarsi dai loro fardelli e dalle loro storie pesanti. Le donne possono volare. Allora, Renatosi l'ha scritto in un libro, è una storia delicatissima che affronta comunque dei temi molto importanti. Tante persone si potranno ritrovare, purtroppo, insomma, l'hai detto tu stessa, tante volte lo vediamo nelle cronache, che in realtà voi scrittori poi magari prendete proprio anche dalla realtà quello che accade, lo spunto per poi arrivare ad un lieto fine. Il lieto fine che nel tuo libro c'è, quindi il consiglio è per tutti di veramente prendere questo volume, leggerlo, perché si potranno trarre degli insegnamenti, magari degli spunti interessanti, veramente. Uomini e donne che siano i lettori, giusto? Assolutamente, assolutamente sì. Anche gli uomini possono trovare delle sfaccettature magari dell'animo femminile a cui non avevano pensato. Esatto. E poi comunque il messaggio, come dicevi tu, le storie sono pesanti, sono forti e arrivano allo stomaco. Però il messaggio fondamentale è il messaggio di speranza e che comunque, appunto, questa capacità di rinascita va coltivata, perché è qualcosa di prezioso che ci appartiene. Cercate su Facebook Lorena Tosi. Esatto, la pagina Facebook, assolutamente. Perché poi se qualcuno vuole leggere il tuo libro, cosa fa? O va sulla tua pagina Facebook, oppure? Può ordinarlo tranquillamente su IBS, Internet Bookshop, oppure prenotarlo in libreria. Beh, insomma, penso e spero veramente che tante persone vogliano leggerlo, anche perché ha inaugurato con questo volume un festival importantissimo letterario, non è un caso. Noi ti facciamo tanto in bocca al lupo per questo. Grazie. Posso svelarlo adesso, alla fine? Certo. Perché noi, adesso vi dico questa cosa, tutti voi che ci seguite da un po' di tempo, quando abbiamo in studio Francesco Basso, che è il nostro stylist di fiducia, che ci rende belle per andare in onda ed entrare nelle vostre case, tutte le volte che ringrazia il team, composto da proprio i suoi collaboratori, ma quando ringrazia la colonna portante della sua attività, insomma, è lei, è Lorena Tosi, la moglie di Francesco Basso. Grazie. Porta un saluto anche a lui, dunque. Assolutamente sì. Grazie per essere stata con noi, Lorena. Grazie dell'ospitalità, come sempre. E noi dobbiamo interromperci per pochissimi istanti di pubblicità, ricordatevi però che più tardi, subito dopo la pubblicità, dunque fra pochi minuti, continuiamo a rimanere in tema letterario. State con noi. Corriere di Como. In tutte le edicole della provincia di Como con il Corriere della Sera. Sfoglialo anche sul web. Io non lo sapevo che sarebbe stato così difficile, che ci sono cose che nessuno ti insegna, che potevano togliermelo il mio bambino. Poi Arche mi ha accolto, hanno preso per mano il mio disagio, mi hanno insegnato a non scappare. E oggi siamo insieme, il mio bambino e io. Invia un sms al 45505 o chiama da rete fissa e aiuti tante mamme in difficoltà. Come ero io. 45505 per Fondazione Arche. Trasformiamo vite difficili in storie piene di speranza. Ben ritrovati, avete fatto bene ad aspettarci perché vi ho promesso che per questa prima puntata dello studio di Angoli insomma avremo mantenuto il filone letterario con personaggi che hanno scritto libri come Lorena Tosi. Manteniamo dunque la stessa tradizione. Si parla adesso con un graditissimo ospite che rientra nel nostro studio. Sono tanto felice di potergli dare il benvenuto. Lui è saggista e scrittore. Mauro della Quarta Raffo, buonasera. Buonasera a lei. Sono contento anche io di tornare. È vero. Era parecchio tempo che mancava l'espansione. Le siamo mancati? Assolutamente. Lei ci mancava. Poi mi mancava anche Como a dire il vero. A me piace molto Como. Perché lei è di Varese. Di Varese, sì. Vivo a Varese dal 1947 quando tre quarti di quelli che ci stanno ascoltando non erano ancora nati e dal 1947 ma in realtà sono romano però è chiaro che essendo a Varese dal 1947 E come le stavo dicendo mentre andava la pubblicità noi abbiamo avuto pochi minuti fa come ospite Lorena Tosi che ha aperto da poco un festival letterario che tra l'altro unisce 13 comuni proprio delle province Varese-Como quindi manteniamo la coerenza anche geografica con i nostri ospiti. L'abbiamo invitata Mauro perché i nostri telespettatori sanno bene che il 9 settembre purtroppo è venuto a mancare uno dei personaggi più grandi della scena letteraria e non solo italiana ovvero Alberto Bevilacqua. Insieme a lei vorremmo regalare anche a chi ci segue un po' un racconto della grandezza di questa persona che lei tra l'altro ha incontrato personalmente. Sì, ho incontrato personalmente e capita tra persone che così in qualche modo si dedicano io sono più saggista che scrittore ma insomma scrivo anche capita di incontrarsi nelle più diverse frangenti. Io ho avuto modo di incontrare Bevilacqua credo fosse nel 98-99 e ci incontriamo a Piazza Navona a Roma si studiava la possibilità di fare una cosa che in qualche modo avrebbero dovuto collegarci poi non se ne fece niente perché il nostro mondo è pieno di queste ipotesi che poi non si concretizzano dicevo che lo incontrai e era una persona affabile gentile fra l'altro io sono molto amico di Luca Goldoni che è di Parma lui era parmense quindi c'era un certo collegamento anche da questo punto di vista farei un inciso brevissimo certo negli anni 20 finale anni 20 inizio anni 30 Bevilacqua era 34 a Parma sono nati un notevole numero di scrittori importanti Luca Goldoni Luigi Malerba Egisto Corradi che è stato un grandissimo corrispondente esteri e naturalmente Alberto Bevilacqua cioè c'è stato un momento un fiorire di talenti in quel periodo a Parma e lui era uno di questi talenti evidentemente ecco dico parlammo di varie cose e mi ricordo che la faccenda venne fuori una situazione particolare io gli chiesi dei grandi editori che aveva avuto modo di conoscere durante la sua vita in quel momento mi interessavo soprattutto all'eventualità di conoscere qualcosa specificamente su Arnoldo Mondadori e su Angelo Rizzoli cioè i due fondatori delle due più grandi case editrici lui aveva avuto a che fare con l'uno e con l'altro e mi raccontò di Rizzoli una cosa insomma qualificante che in qualche modo lo caratterizzava diceva che Rizzoli aveva una considerazione scarsa degli scrittori riteneva che la persona importante fosse lui cioè lui l'editore era lui che faceva in modo che lo scrittore avesse eventualmente successo o che avesse anche poco successo dipendeva e per dare la dimostrazione che era lui la persona importante storpiava i nomi degli scrittori e mi diceva bevi l'acqua in collezione mi disse pensi che mi chiamava Passalacqua mi diceva caro Passalacqua con un'aria come per dire che sia bevi l'acqua o passalacqua non importa l'importante che sia io a produrlo e a pubblicarlo ecco quindi è una cosa abbastanza mi è rimasta in mente questa cosa qui perché insomma la qualificava anche Angelo Rizzoli evidentemente una persona della vecchia scuola che insomma faccio io sono io una persona importante vado avanti io e così via noi abbiamo detto in apertura poco poco fa appunto che Alberto Bevi l'acqua è stato veramente uno dei nomi che rimarranno insomma nella storia dell'Italia anche perché non solo scrittore lui è veramente stato una persona completa a 360 gradi perché poi forse è diventato anche molto molto famoso al grande pubblico per la cinematografia c'è stato un rapporto molto forte nella sua vita assolutamente lui ha avuto la capacità di trasformarsi dopo aver scritto dei romanzi ha avuto la capacità di sceneggiare e poi realizzare come regista dei film ricavati da quei romanzi in particolare La Califfa che è un film famosissimo qui si vedono tra i tre voti della paura che non tutti forse sanno questa lui era sceneggiatore perché il regista è Mario Bava Mario Bava faccio una piccola digressione Mario Bava è stato un grandissimo specialista dei film dell'orrore ci sono dei grandi registi americani che si ispirano a Mario Bava per determinate sceneggiature eccetera perché era un uomo veramente in gamba da quel punto di vista anche se noi non abbiamo mai valutato come andava valutato quel film ebbe la sceneggiatura di Alberto Bevilacqua era il 1962 ah ho capito ho studiato bisogna studiare La Califfa è questa specie d'amore sono gli altri due film invece che lui ha portato sullo schermo come regista qui c'è una donna assolutamente incomparabile La Califfa ha avuto come interprete Romy Schneider che voi vedete in questa fotografia oramai nel momento del suo massimo fulgore perché Romy Schneider ha avuto scusate faccio delle digressioni man mano ma noi è questo è questo che vogliamo Romy Schneider ha avuto quella carriera stranissima perché è partita facendo Sissi la giovane imperatrice dove era praticamente una pupattola e nessuno avrebbe immaginato che potesse diventare invece quella magnifica donna che dopo è diventata e quella grande attrice che dopo è diventata perché erano le due cose insieme certo che non sempre avviene che ci siano le due cose insieme ecco quindi lei è riuscita a diventare qualcosa di straordinario e soprattutto negli ultimi anni per aver acquisito non tanto qui ma aveva acquisito una certa patina di dolore è una donna molto sfortunata ha avuto una vita sfortunata è morta giovane per conseguenza di un figlio morto cioè lasciamo perdere ha avuto una vita personale travagliata una vitaccia ma questa patina di dolore che in qualche modo si era sovrapposta alla sua bellezza la rendeva incomparabile sinceramente è stata veramente grande per molti momenti è stata grande era un piacere vedere la califa è magnifica naturalmente questa è una foto del set tra l'altro della califa beh insomma Bevilacqua è stato capace di illustrarsi in diversi momenti e in diverse situazioni io che sono allievo di Piero Chiara posso dire che Piero Chiara era capace di essere contemporaneamente un grande scrittore un narratore soprattutto e uno sceneggiatore importante ma non è mai arrivato alla regia Bevilacqua invece ha fatto questo qualcosa in più e l'ha fatto anche bene l'ha fatto era molto amato dal pubblico anche Bevilacqua beh era un uomo come si può dire conosciuto noto le sue apparizioni erano seguite molto bene quindi sinceramente apprezzato apprezzato da tutti i punti di vista ecco noi insomma siamo rimasti un po' tutti colpiti però no stavo per dire un'ultima cosa è un uomo che poi ha vinto anche un'infinità di premi perché premi letterari ne ha avuti notevolmente anche premi cinematografici perché ha avuto un Donatello se ricordo bene e premi letterari importanti Campiello se ricordo bene nel 66 per questa specie d'amore questa specie d'amore ecco insomma un uomo notevole da tutti i punti di vista che è stato anche in qualche modo consacrato perché noi abbiamo una situazione particolare ci sono personalità di rilievo che non ricevono invece la consacrazione che gli è dovuta magari capita dopo morto e uno non se ne fa niente dopo morto è meglio averlo in vita ecco lui invece aveva raggiunto questa consacrazione in vita visto che ha citato giustamente i premi è stato assolutamente premiato ha avuto una produzione tra l'altro molto vasta anche dal punto di vista della prosa se le chiedessi un suo gusto personale che si tramuta in questo modo in un consiglio mettiamo che all'ascolto c'è qualcuno che non ha letto ancora nulla di lui ha scritto moltissimo Alberto Bevilacca ma c'è la possibilità a parte la califa che viene istintivo dire leggere la califa ma direi che c'è la possibilità di leggere un po' tutto perché è stato pubblicato un meridiano voi sapete che c'è una collezione della Mondadori che si chiama I Meridiani che è un po' questa lo ripeto una consacrazione che pochi hanno avuto in vita lui sì perché è morto adesso invece il libro I Meridiani è uscito nel 2010 quindi era anche ancora abbastanza in sé diciamo ecco nei Meridiani è possibile avere trovare il libro dedicato a Bevilacqua dove sono raccolte le sue cose migliori decisamente quindi uno compra il libro dei Meridiani e lì ha poi naturalmente i Meridiani molto importanti sono ben costruiti per cui c'è tutta una parte bibliografica c'è tutta una parte biografica che permettono di inquadrare bene il personaggio anche nel contesto storico nel momento sociale economico eccetera in cui ha vissuto quindi diciamo che questo rimane come consiglio per tutti i curiosi potrebbe essere una somma che ben ci fa capire quella che poteva che è stata la produzione di Alberto Bevilacqua per completezza di informazione perché l'ha detto prima è il Davide di Donatello l'ha vinto per il miglior film con questa specie d'amore esatto io recupererò personalmente sulla filmografia perché non ho visto i film beh adesso si può vedere tutto ragazzi in qualsiasi modo quindi non sarà difficile no no si trova tutto dicevo prima che poi mi sono interrotta perché ha lasciato un po' di amaro in bocca con in molte persone che hanno letto in questi giorni quotidiani insomma la vicenda un po' travagliata della polemica dopo la morte ecco sì io di questa non sono partecipe perché evidentemente i miei contatti con lui si erano diradati erano finiti però devo dire questo ma in sostanza cosa è successo perché abbiamo visto sulle pagine dei giornali insomma sono andati avanti per un po' di giorni ma a quel che si è capito c'è stata una situazione particolare determinata dal fatto che si è stato ricoverato per questioni cardiache in una clinica e in quella clinica è rimasto per molti mesi la sua convivente che è una ex attrice che si chiama Michela Miti ha cercato di intervenire perché fosse affidato a un istituto pubblico invece che a un istituto privato non avendo voce in capitola perché i conviventi non hanno diritti e questa è una cosa su cui si discute moltissimo bisogna anche intervenire in qualche maniera e non avendo avuto in capitolo le cose sono andate come sono andate sembra che questa clinica gli abbia fatto pagare un pozzo di soldi e insomma probabilmente non lo so è una cosa che si verificherà perché ci sono denunce eccetera però è tornato nella sua parma adesso beh certo adesso obbligatoriamente per forza deve riposare dove è nato d'altra parte questo mi fa venire in mente per collegamento sempre Piero Chiara perché a Luino lui era nato a Luino viveva a Varese però quando è morto è tornato a Luino con una magnifica tomba che gli è stata preparata sulla quale c'è scritto in latino è tornato da dove era partito ecco in qualche modo è quello che molti si aspettano che succeda e così si è chiuso il cerchio anche in questo senso visto che sta finendo il tempo a nostra disposizione c'è l'informazione che arriva e dobbiamo lasciare lo spazio al telegiornale Mauro vorrei ricordare che innanzitutto spero di riaverla in studio e così accadrà ma volentieri perché ci daremo un po' di appuntamenti parlare con lei è sempre piacevole perché in pochi minuti riesce sempre ad aprirci comunque veramente gli occhi su tantissime situazioni e così faremo diverse volte quest'anno segnaliamo il suo sito internet perché lei comunque per chi volesse seguirla è vero che adesso appare allora è www.maurodellaportaraffo.com e lei qui giorno per giorno ogni giorno tra nel sabato e la domenica ma non perché io sia è vero che